Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! 6 dicembre, altro pacchettino da scartare. Dai, vediamo cosa esce. Fino ad oggi ho ricevuto cose carine e molto utili. Ma sono tre vasetti, che belli, mi piacciono un sacco questi colori e hanno anche il sottovaso dello stesso colore. Troppo bello! Sono contenta! Molto utili! Io compro sempre vasi tutti i momenti, questi fanno proprio al caso. Grazie! Come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo domani con il prossimo pacchettino. Ciao ciao! Ciao!